Allora ragazzi, volevo portarvi a conoscenza che ha ripreso il podcast CQDX dedicato ai radiomatori, ci sono due versioni in audio tramite Skype, il mio call è iK2DUV1, non chiedetevi il perché, non fatevi troppe domande, se mi chiamate ci mettiamo d'accordo e facciamo la registrazione, parlate della sezione, parlate delle vostre attività radio, di tutto ciò che riguarda il mondo radiomatori. Abbiamo un'altra possibilità che io preferisco che è quella video, dove riceverete un link, potete entrare in diretta e in videoconferenza si può fare la stessa cosa, quindi scegliete voi, è un programmino che avevo iniziato tempo fa e lo voglio portare avanti, quindi vi aspetto, Giorgio iK2DUV. Grazie a tutti.